Siete all'ascolto di RBE e vi ho detto che vi avrei parlato di cambiamento climatico, vi ho già fatto qualche accenno prima di lasciarci per il notiziario, ma ora andiamo proprio nel merito della questione. Perché? Perché ieri si attendeva un annuncio importante da parte della Commissione Europea, un annuncio che era, diciamo, anche richiesto dagli impegni che si è preso l'Unione Europea in termini di cambiamento climatico, per dirle in termini molto generici, poi andremo un po' più nel dettaglio. E' arrivata la raccomandazione della Commissione rispetto alla riduzione della CO2 nei prossimi decenni, in sostanza. Ne parliamo con chi ha seguito proprio la questione, si parla del Think Tank Eco, che si occupa proprio di seguire il clima e più in particolare del responsabile del programma Europa, di ECCO, ovvero Davide Panzeri. Allora, intanto ciao e benvenuto qui su Play. Buongiorno a tutti, piacere di essere qui. Piacere è tutto nostro, anche perché, come sempre, già il tema del clima di per sé è un tema complesso, nel senso che ci sono tantissimi fili da seguire, quando di mezzo c'è poi anche la politica, la complicazione aumenta moltissimo. Quindi proviamo a partire proprio, andare per gradi, di provare a capire che cosa sta succedendo, qual è la raccomandazione che ieri la Commissione europea ha presentato. Allora, la raccomandazione della Commissione è quella, avendo considerato diversi scenari e tre particolari di riduzione, è quella di ridurre del 90% le emissioni al 2040 rispetto al 1990. Questo va messo nel contesto della legge clima che impone che l'Europa raggiunga la neutralità climatica, cioè sostanzialmente riduzione delle emissioni a zero quando vengono considerate anche le rimozioni di gas clima alteranti, quindi l'obiettivo di emissioni in zero nel 2050. Quindi il 2040 è un passo verso questo obiettivo del 2050. Chiaro, chiaro. Quindi insomma, detta così sembra molto facile. Il dubbio che può venirci più che altro è ma non ce l'avevamo già un obiettivo, non avevamo già una strada da percorrere. Cioè, si tratta di una precisazione ulteriore o di un ulteriore passo per la riduzione rapida delle emissioni? Insomma, giusto per inquadrare un po' qual è il percorso? Un po' entrambe le cose, nel senso che appunto il percorso già c'è, è un percorso che arriva alla neutralità climatica nel 2050 ma di cui già abbiamo visto dei passi molto importanti, per esempio rispetto all'obiettivo di riduzione del 55% al 2030, abbiamo visto nell'ultimo anno e soprattutto negli ultimi mesi l'approvazione di molte parti del cosiddetto pacchetto Fit for 55 che è un po' una parte fondamentale dell'ossatura dello European Green Deal che appunto vuole portare l'Europa a raggiungere la neutralità climatica anche come occasione di prosperità e di innovazione nei prossimi anni e sostanzialmente l'obiettivo del 2040 non aggiunge nulla di nuovo se non chiarire da una parte qual è l'obiettivo numerico raccomandato a cui mirare e dall'altra analizza gli impatti sull'economia, sulla società ad alto livello delle varie opzioni per raggiungerlo. E una cosa importante da dire in questa cosa, in questa questione è proprio quella che la comunicazione della Commissione e l'analisi di impatto che l'accompagna basano tutti questi obiettivi, cioè tutte le opzioni considerate per poi arrivare alla raccomandazione del 90%, sul percorso già esistente cioè sul percorso che è stato iniziato con le politiche del Fit for 55 per raggiungere appunto gli obiettivi del 2030 che poi prosegue fino agli obiettivi del 2040 e infine a quelli del 2050. Chiaro, insomma per stringere moltissimo, per spiegare moltissimo è molto comodo avere un obiettivo di neutralità appunto rispetto alle emissioni di energia carbonica posto al 2050 però non è un piano che può iniziare nel 2049 vanno messi dei paletti in precedenza in modo che la riduzione sia graduale altrimenti poi ci si ritrova con quale che sarà il Parlamento europeo a quel punto quale che sarà la Commissione europea a quel punto e ci diranno beh non si può fare perché ormai è troppo tardi questo è un po' il senso, no? Assolutamente sì, ma anche, e questo è assolutamente il senso come dicevi tu, l'importanza della gradualità è anche importante segnare il percorso e le varie etappe per raggiungerlo perché questo, come riconosce la stessa Commissione nella sua analisi d'impatto dà la certezza agli investitori, al comparto economico della società che può con la certezza della direzione delle tempistiche di viaggio fare gli investimenti che sono necessari sia per la prosperità economica che per raggiungere la decarbonizzazione Sì, mi fa venire in mente un po' quell'elemento del pacchetto del Green Deal rispetto alle macchine, alle auto a combustione interna di cui prima è stato deciso il divieto per il 2035 poi quando si è cominciato a limare questo divieto a contestarlo gli stessi produttori di auto erano perplessi perché hanno detto noi ci stiamo attivando per provare a produrre le auto elettriche che poi di colpo adesso dobbiamo ripensare tutto insomma questa chiarezza di fondo che appunto è molto importante ma questo è un po' un altro argomento non andiamo a rivangare queste questioni c'è anche un elemento pratico all'interno di questa raccomandazione cioè è un obiettivo puramente numerico si indica anche un po' la strada oppure invece questo è il compito poi dei vari altri organi anche dell'Unione Europea e non necessariamente in questo momento della Commissione Europea Beh, direi che la strada come accennavo prima è un po' già segnata dal pacchetto Fit for 55 che sostanzialmente mette in campo un'infrastruttura di decarbonizzazione accoppiata alla crescita economica che sostanzialmente poi andrà a continuare verso il 2040, verso il 2050 e sulla quale si costruiranno delle nuove norme quindi sì sicuramente una volta stabilito l'obiettivo sarà compito poi della prossima Commissione costruire le nuove norme, le nuove politiche e la Commissione in questo senso nella comunicazione è abbastanza esplicita sul fatto che considera semplicemente nelle proprie proiezioni le politiche attuali sarà necessario prolungare queste politiche sarà necessario espanderle aumentarne il livello di impatto ma sostanzialmente l'impalcatura già esiste quindi c'è un po' entrambe le cose c'è il target numerico che dà la chiarezza e c'è l'indicazione di una strada che è già iniziata e che va proseguita Per chiudere andrei nella matassa più aggrovigliata della vicenda c'è la politica in senso stretto noi siamo in Unione Europea che ormai è in campagna elettorale direi per le elezioni europee di giugno porre probabilmente queste indicazioni prima del voto ha anche questo obiettivo cioè l'urgenza climatica c'è a prescindere ma soprattutto prima di un voto che sembra molto basato anche sulle politiche ambientali insomma mettere questi paletti prima immagino sia importante però ecco ieri ad esempio su tutti i titoli giornali o insomma gli articoli che leggevo in vista della futura all'epoca raccomandazione della Commissione Europea si diceva la Commissione Europea dovrà presentare la sua raccomandazione nel mezzo delle proteste degli agricoltori che almeno per quanto seguendo alcuni slogan sono posti in prova da alcune direttive del Green Deal che riguarda chiaramente anche l'agricoltura anche l'agricoltura inquina se fatta in un certo modo e quindi insomma quali sembrano a voi essere le prospettive appunto per queste elezioni europee stiamo andando verso la formazione di un Parlamento che sarà molto ostile a quello che viene presentato in questo momento e quindi si sarà da lottare per quello che abbiamo già raggiunto finora o invece insomma è ancora tutto abbastanza in bilico è molto difficile ovviamente prevedere quale possano essere i risultati delle elezioni le proiezioni sembrano indicare uno spostamento dell'intero arco del Parlamento verso destra ma al momento io non vedo un fondamentale cambiamento o una fondamentale inversione di rotta rispetto alle politiche climatiche e allo European Green Deal sia per una questione al momento per come vediamo le proiezioni di matematica degli eletti sia e soprattutto questa seconda argomentazione è importante per una questione economica e di direzione di viaggio come accennavi tu prima ormai i comparti produttivi i comparti industriali hanno investito e stanno investendo in questa transizione che è inevitabile ce lo dice la matematica ce lo dice la scienza ce lo dice il calcolo di danni che secondo per esempio la stima della stessa commissione danni climatici sono stati intorno ai 170 miliardi negli ultimi 5 anni di fronte a queste cifre tutte le analisi economiche ci dicono che è molto più conveniente fare una transizione una transizione ordinata che non farla quindi il prossimo Parlamento non potrà non tenere conto di questa cosa la transizione è inevitabile quello che cambierà che è il compito della politica e sarà il compito anche del prossimo Parlamento a livello europeo ma anche di tutti i Parlamenti nazionali sarà come gestire questa transizione che è inevitabile cioè come gestirla vuol dire riuscire a coniugare le tempistiche le necessità dell'economia le necessità della società e gli impatti in modo che la transizione sia accompagnata sia ben gestita gli impatti redistributivi siano mitigati in modo che non ci sia un impatto forte sulle categorie sia economiche sia sociali più vulnerabili e che anche però tutti i settori quelli più complessi da decarbonizzare abbiano e qua includiamo assolutamente l'agricoltura siano accompagnati e abbiano la possibilità di trasformare il proprio modo produttivo in senso decarbonizzato e l'agricoltura che appunto è nelle notizie in questi giorni per le proteste è uno dei settori più colpiti da parte del cambiamento climatico basta che pensare che l'alluvione in Emilia Romagna dello scorso anno ha provocato quasi 10 miliardi di danni di fronte a dei danni così rilevanti non è concepibile che anche l'agricoltura non contribuisca come tutto il resto della società alla transizione il punto è che la politica deve riuscire a trovare un modo per consentire a tutti questi settori agricoltura inclusa di contribuire e di raggiungere la transizione esatto forse evitare un po' un paio di estremi in entrambi i sensi che si stanno un po' profilando in questo periodo che entrambi sembrano andare un po' in una direzione lontana da quella di cui stiamo parlando però insomma mi piace questo questo ottimismo noi ci fidiamo ci accodiamo appunto a questo ottimismo nello sguardo alle elezioni europee ma intanto ci salutiamo grazie davvero Davide Panzeri per questo quadro molto chiaro rispetto alla situazione attuale magari ci sarà modo di ritornare sul tema in futuro ma intanto grazie mille alla prossima ciao alla prossima grazie mille